Sì, sono accavallati gli appuntamenti. Chi c'era prima? Il regista. Ah, sei felice? Sì, è felice. È felice che già sta. Perché io sono io e tu sei tu? Sì, solo sei tu, sei tu perché io sono mio. Ti ho parlato di Rocco. Rocco era un amico imaginario, un amico di niente. Che è passato? Mi parecchio che ti ha visto. Un viejo amico. Ora, Setti, io sono un cuore. Chi è tu? Chi è tu? Perdoni, a dove vai? Tienesita con lei? Che è successo? Io non mi ricordo di lei. Lei conosce il mio nome e mi dice chi è. Ah sì che stai sconfondita? Quindi non ti ha sentito? Sì, mi infido. Mi infido che già sto. Tu sei il mio amico, Rocco. Io non ti conosco, hai capito? Non so chi sei, chi sei? Io sono reale, suuri di fantasia. Io non sei nada. In un mondo che tutti sappiamo tutto, qualcuno che non sappiamo nulla è qualcosa molto molto bello. Tu non esiste, non esiste! Tu non esiste! Io non per la frequenza. Ciao! 000